Quartiere Villaggio del Sole, siamo a poco più di un chilometro fuori da Porta Santa Croce, varco per il centro con un'edilizia tipica del Novecento, un quartiere di edilizia pubblica degli anni Sessanta, la costruzione dell'Ina Casa. Nel tempo è diventato crocevia multietnico e soprattutto viario, con traffico pesante e un via vai di auto imponente. Per anni i suoi residenti si sono battuti per la realizzazione di una bretella che deviasse parte del traffico, oggi finalmente in fase di realizzazione, ma intanto i vecchi problemi continuano a permanere. C'è tanto smog, c'è tanto smog che non si vede loro perché qua gli abitanti che stanno sopra veramente è invivibile. Traffico non è mai diminuito da tantissimo tempo, sempre uguale, smog sempre uguale e aspettiamo la variante. Ma non di solo smog e traffico soffre il quartiere, anche di furti come ci racconta un commerciante che con i genitori lavora in quartiere da 50 anni. Abbiamo avuto anche noi un episodio qualche mese fa di un furto, niente di particolare, però non fa piacere avere delle persone che ti entrano in negozio, che fanno praticamente solo danni. Ho sentito tanti furti nei garage e io come negozi di bici rubano tante bici. Ed entrando all'interno del quartiere abbiamo scoperto anche altre cose che fanno arrabbiare i residenti. L'educazione e poi mancano i servizi, vengono quando vogliono, la spazzatura e poi in certi giorni non c'è neanche posto per parcheggiare, adesso io devo scaricare delle cose, per fortuna ho trovato libero, ma è un caso. Tra parcheggi ed educazione anche qualcos'altro manca. Penso che per i giovani, per i ragazzini manchi sicuramente qualcosa, uno spazio dove trovarsi.